12 maggio 2017, vigilia del centenario dell'apparizione della Madonna a Fatima. Il maestro in ferro Salvatore Coppola ha appena realizzato il telaio in ferro per la Madonna di Castelpedoso, l'apparizione abibiana che andrà nel cimitero di Rocca Ravindola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ha appena sistemato la cornice in marmo realizzata dai fratelli Siano della curva di San Nicandro a Venafro. Come si vede, l'ha registrata in un modo precisissimo, certosino, affinché la Madonna di Castelpedoso compibiana vi appaia con tutto il suo splendore. Ogni fuga è stata riempita con pazienza, certosina, col silicone. È stata riempita alla perfezione col silicone per evitare che un domani l'acqua e poi il gelo potessero penetrare e distruggere l'immagine. Perché la maiolica è potente, resiste a qualsiasi atmosfera, al sole altissimo, non scolora nulla, ma il suo grande nemico è il gelo. Qualora vi entri il gelo la spacca, perché essendo argilla assorbe l'acqua e gelando spacca. Maestro Inferro Salvatore Coppola, vissuto alla redella da fanciullo, da giovane, è devotissimo di questa Madonna. Notissima per Napoli. Noi dobbiamo specificare la Madonna dell'Arco a Santa Anastasia, lunedì in Albis. In lunedì in Albis vi arrivano i battenti. La Madonna dell'Arco a Santa Anastasia è il Volto Santo a Capodimonte, di Madre Flora. A Capodimonte mi telefona spesso una figlia spirituale di Madre Flora, si chiama Elvira, appunto da Napoli. Il Volto Santo, 10 febbraio, Madre Flora. La rivoluzione ci ha rovinati, loro devono salvare le due Sicilie, loro devono salvare il regno di Napoli e Sicilia. E noi ne siamo convinti che un giorno diranno basta al serpente infernale, diranno basta, lo fermeranno per sempre, lo annienteranno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. 12 maggio 2017 Vigilia del centenario dell'apparizione della Madonna a Fatima Il Maestro Infero Salvatore Coppola ha appena sigillato alla perfezione le cornici realizzate dai fratelli Siano alla curva di San Nicandro a Venafro, i fratelli Marmisti, appena sigillato le cornici del quadro della Madonna di Castelpedoso che andrà tra i nostri cari defunti nel cimitero di Rocca Ravintola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti.